Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto lampade per proiettori BTI DT601 BTI Lampada per proiettore. Lampada originale fabbricata per essere utilizzata in un videoproiettore Itachi CPX 1250, CPSX 1350, CPX 1350, CPX 1230. La lampada originale Itachi ha una durata di utilizzo di 2000 ore. Questa lampada originale Itachi gode del certificato del fabbricante del videoproiettore. La sostituzione della lampada originale Itachi si effettua in modo molto semplice. Basta sollevare uno sportello, protetto da una vite, per estrarre la lampada esaurita e installare la nuova lampada originale Itachi. Dal momento che i nostri prodotti meritano tutta la nostra attenzione, la lampada originale Itachi è consegnata in un doppio imballaggio, che permette di proteggerla efficacemente durante il suo trasporto. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon Itachi, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.